Ho un T-Rex che cerca di masturbarsi. Allora, sito porno c'è. Fazzoletto c'è. Lubrificante c'è. Ok, cominciamo. Oh! Ed è per questo che erano dei predatori così feroci. Lui no! Riusciva a masturbarsi per le tampe troppo corte. Per questo era il terrore fino al Galway Bayport. E poi per fortuna la nuova moglie fece sesso. Problemi più non ebbe il tirannosauro Rex.